Ciao Patrick, cos'è che mi hai detto poco fa là fuori dall'hotel? Poco fa ti ho detto una cosa molto semplice, ho presentato la figura del finanziarista da alcuni commercialisti e gli stessi non mi hanno visto come un loro possibile competitor e quindi concorrente, anzi l'idea di affiancare al commercialista che di solito ha impegnato nella parte fiscale dell'azienda, quindi aiutare l'azienda fiscalmente a affiancare una figura che può aiutare anche il proprio cliente ad ottenere dei finanziamenti in banca è qualcosa che ai commercialisti può interessare, per cui potrebbe nascere una collaborazione sinergica tra commercialista e finanziarista, nel caso in cui il finanziarista non fosse commercialista. Perfetto, grazie. Prego.